Un muro abbattuto su un'abitazione privata a Modica Alta, con i vigili intervenuti tempestivamente, una famiglia evacuata, Corso San Giorgio bloccato per un albero finito in strada e un altro albero caduto incontrato a Bussello. Questi danni provocati dal maltempo che si è abbattuto in queste ore in provincia di Ragusa. Oltre 100 km orari le raffiche di vento registrate nel territorio ibleo con pioggia abbattente anche nella notte. I vigili del fuoco sono intervenuti nelle scorse ore su tutto il territorio per alberi divelti, cartelloni pubblicitari volati via e qualche tetto di abitazione parzialmente scoperchiato. Sulla strada provinciale che collega Vittoria Dacate, il vento impetuoso ha scradicato un albero caduto sulla sede stradale con conseguente interruzione della circolazione. Non si segnalano né danni gravi né feriti. Restano attivi i presidi di protezione civile. Il bollettino medio segnala piogge deboli con previsioni di precipitazioni abbondanti. La protezione civile ha messo un'allerta gialla consigliando precauzioni alla cittadinanza. Le previsioni meteo per la giornata indicano temperature in lieve calo rispetto a ieri. Sono attese precipitazioni consistenti con un accumulo giornaliero di circa 39 mm di pioggia. I venti saranno moderati con raffiche che possono raggiungere i 71 km orari prevalentemente provenienti da ovest-nord-ovest.